Partono i lavori per la sistemazione dei nuovi parchi gioco a Teramo, cosa mancava? Mancava l'antitramo, in effetti oltre allo scivolo c'era l'arrambicamento che è abbastanza alto, la norma prevede di un antitramo, tra l'altro non nemmeno di 4 cm ma di 7 cm. Quanti sono i parchi giochi interessati a questi lavori? Sono diversi, devono poter rilengarli, c'è Piana della Lende, via Barnabèi, Gammarana, Piano Daccio, poi Villa Pavone, la Serroni, l'area verde vicino alla Serroni, quindi forse me ne sfugge qualcuno ma ce ne sono diversi, è Miano. E in quanto tempo verranno sistemati? Mi lavo mano, ma adesso purtroppo c'è stato un ritardo perché l'antitramo da 7 cm è stato difficile reperirlo e quindi adesso il materiale arriva mercoledì, stanno iniziando gli scavi per poi predisporre la sistemazione e l'installazione di questo antitramo di 7 cm. Ci troviamo davanti alla casa di riposo dei Benedictis di Teramo e torniamo a parlare della polemica sui parcheggi. L'amministrazione dopo un primo progetto iniziale è tornata a cambiare questi parcheggi scegliendo una disposizione a spina di pesce. Io devo fare chiarezza, ma non per difendere l'operato dell'assessore Verna che quindi sulla segnalete su Via Le Crispi ha fatto un ottimo lavoro. Il problema è questo, che qui c'era un parcheggio a pettine, cerchiamo di capire la differenza tra pettine e spina di pesce perché qualcuno non l'ha capito, ha fatto molta confusione. Ovviamente con una corsia ciclabile il parcheggio a pettine creava situazioni di pericolo perché si esce maierà dritta sulla strada. Inizialmente proprio per evitare questa situazione di pericolo si è fatto un parcheggio tradizionale. Ovviamente poi si è ragionato sopra perché ha creato malumori tra chi lavorava in questo importantissimo centro di residenza per anziani. Si è ragionato sopra e quindi col buon senso si è visto che con un parcheggio a spina di pesce si creavano più parcheggi e si eliminava la gambarte del pericolo che poteva nascere da quel tipo di parcheggio a pettine.